Ho detto ciao alla box perché in questo momento devo un attimo riflettere e stare un po' da sola. In quel momento era appena sceso da un sogno distrutto. Non vedo l'ora di prepararmi per le mie prossime competizioni. Quindi possiamo dire a presto box. Sì, a presto box. Io sono salita su quel ring perché stava iniziando la mia Olimpiade, stava iniziando il mio sogno. Ho ricevuto il primo colpo e mi dava fastidio il caschetto, sono andata all'angolo. E lì ho detto, maestro mi fa malissimo il naso. Sono rientrata, ho ricevuto il secondo. In quell'istante non ho capito nulla. Ero in un altro mondo, avevo preso un colpo e ero KO. C'era la sensazione che potessi continuare, che non fossi proprio in una difficoltà estrema. Quel colpo l'ho accusato forte e mi sono sentita male. Sono una pugile esperta, faccio pugilato da quando avevo 12 anni. Il ring è la mia vita, so cosa significa prendere i colpi. Sono sempre stata una lottatrice, una guerriera. Io non ho mai mollato su quel ring. Se l'ho fatto è perché in quell'istante io mi sono sentita così persa che ho pensato per un attimo alla mia famiglia, ho pensato per un attimo alla mia salute. E ho detto, basta, finisci la ora, Angela. E quando ho guardato il mio maestro, lui diceva, Angela continua. Io l'ho guardato, cioè non ce la facevo proprio, non ce l'ho fatta, ma fisicamente. Il maestro però non ti lancerebbe così in pasto a una mattanza, no? Il maestro mi diceva continua perché loro mi conoscono, no? Conoscendomi da anni non mi hanno mai visto arrendere. Io sono sempre stata una che prende un colpo e dice, come mi hai colpito, adesso te ne do tre per dirti, no? In questo match io non ci sono riuscita. Che posso fare? Cioè io ho fatto quello che sentivo di fare in quel momento. Anche in quello ci vuole coraggio, eh? A fare una scelta. Perché anche quello fa di te una grande donna. E non lo dico con presunzione, ma lo dico perché ci vuole coraggio anche a prendere delle scelte. La politica ha parlato tantissimo, prima, durante e dopo l'incontro. Quanto ha influito questo clima sulla tua decisione, anche inconsciamente? Io quando sono salita sul ring, non è che mi sono messa a pensare tutto quello che sta succedendo intorno a me. Io ero salita sul ring e ho detto, ok, è iniziata la mia Olimpieda e adesso si combatte. E dopo tanti sacrifici, dopo la morte di mio padre, ho sognato questo momento con tutta me stessa. Nulla di personale con... Assolutamente, ha tutto il mio rispetto, assoluto. Il mancato saluto finale. Il mancato saluto finale, se l'avessi vista subito dopo l'avrei abbracciata e le avrei detto di continuare fino alla fine. Il mio mancato saluto è stato semplicemente perché in quel momento si blocca il mondo, si blocca il tempo. Mandale un messaggio magari attraverso noi. Ciao Iman, mi auguro che arriverai in finale e che vincerai le Olimpiadi. Avrò un modo di rivederla. Io penso che in questa situazione io e lei non c'entriamo nulla. Siamo solo qui perché siamo inseguendo un sogno. Non siamo noi a giudicare. Le persone che devono giudicare tutto questo ci sono e hanno le competenze per poterlo fare. Il nostro compito qual è? Combattere. E l'abbiamo fatto. A me è andata così, Iman ha vinto e va bene così. Quindi bisogna dire alle persone che è giusto che lei sia alle Olimpiadi e che gareggi contro di me e contro le altre atlete. Come ho detto non siamo nessuno per poter giudicare questa cosa. Tu dici non sei nessuno, non sei nessuno. Però tu non è che non sei nessuno, tu sei una pugile, sei una pugile professionista. Voglio dire, se no non stavi qua. Però se avessi voluto usare delle strategie, come dicevo prima, non sarei salita sul ring. Sono salita con il sorriso e il rispetto assoluto. Non ho nulla da aggiungere. La Meloni però ti è stata vicino. Non ti sei sentita un po' anche usata dalla politica? Assolutamente no. Mi sono sentita molto sostenuta da tutti gli italiani. La Meloni mi ha accolto come una figlia e mi ha detto di non mollare, di credere nei miei sogni, perché lei è sicura che farò grandi cose. Durante la proclamazione ripetevi non è giusto. A cosa ti riferivi? Beh, non è giusto che la mia Olimpiadi finisse qua. Non è giusto che i miei sogni finissero qui. E poi ognuno strumentalizza la parola come vuole. Non era un sentirti vittima di un'ingiustizia in particolare? Assolutamente. Non sarei salita sul ring. Perché avrei dovuto battermi se poi i miei pensieri sono altri? 24 ore dopo, se potessi rigiocare il match, cambieresti qualcosa, alzeresti la soglia del tuo dolore? Se potessi schiferei. Schiferei quel bel destro che mi è arrivato. No, io sono consapevole di prendere dei colpi. Sono consapevole che posso cadere al tappeto. Sono consapevole che come cado al tappeto posso anche rialzarmi. Ma ragazzi, la vita è la mia. Nel senso, se io ho deciso di fare una cosa è perché in quel momento, in quell'istante, ho sentito di salvaguardare la mia vita perché non sono riuscita ad incassare quel colpo. C'è una voce che parlava addirittura di un tuo possibile ritiro? Il mio ciao alla box, dovete anche capire che magari in quel momento un atleta era appena sceso da un sogno distrutto. Ho detto ciao perché in questo momento devo un attimo riflettere e stare un po' da sola con i miei pensieri, con la mia famiglia. Non è facile cadere. Già mi era successo a Tokyo dopo la morte di mio padre. Quando poi sono ritornata su quel ring olimpico per me era un grande onore. E adesso ritrovarmi fuori di nuovo, non poter portare la medaglia a mio padre, mi sono anche sentita un po' male. Quindi ho detto ciao alla box per questo periodo. In una situazione del genere tuo papà che cosa ti direbbe? Mi avrebbe abbracciata e forse le parole che avrebbe usato, non ti preoccupare Angeli, vai avanti a babbo. Queste sarebbero state le sue parole, ne sono certa. Io mi batterò per i miei sogni sempre e salirò e sarò sempre la tigre, come mi ha denominato mio padre. Quindi non posso fare altro che sorridere e non vedo l'ora di prepararmi per le mie prossime competizioni. Quindi possiamo dire a presto box. Sì, a presto box. Sì, a presto.